Ciao a tutti amici di Avriai, un salutone dal Green, player review di Neymar, 88 di overall, International Man of the Match su Foot World Cup, e allora abbiamo detto 88 di overall alla sinistra, perché il ruolo su Foot World Cup rimane lo stesso, 5 stelle piede debole, 5 stelle abilità work rate alto medio, che dire, un giocatore ovviamente molto tecnico, molto veloce con un tiro della Madonna. Allora, 96 controllo palla, con 97 di dribbling, 95 accelerazioni, 96 agilità, 86 equilibrio, 96 riflessi, 93 sprint. Tutte queste statistiche, insieme al 49 di forza fisica, lo rendono veramente un giocatore agilissimo, però molto, ma molto facile da buttare per terra. Nonostante lui abbia questo 96 di agilità, questo 86 di equilibrio, la forza fisica è veramente bassa, per cui i contrasti avranno quasi sempre lo stesso risultato, cioè perdiamo il pallone. Per fortuna che abbiamo le 5 stelle skill, quindi chi di voi è bravo nelle skill può andare via di lusso con Neymar, 5 stelle sul piede debole, quindi da ala può sia crossare, anche perché ha un 82 di cross, che tirare in porta col tiro a giro di destro, che è una cosa meravigliosa. Il tiro allora, abbiamo un 92 nella finalizzazione, un 85 nei tiri della distanza, e un 85 nella potenza tiro, per cui diciamo che dal limitare dell'aria i suoi tiri a giro sono mi, ci, di, a, li. Per quanto riguarda passaggi, abbiamo un 79 nei passaggi lunghi, abbiamo un 84 nei passaggi corti, quindi anche questa è una statistica molto decente, 88 nel posizionamento, per cui che tipo di ala è? Sicuramente intanto è un giocatore da non utilizzare come esterno sinistro, perché difensivamente ha un 23 nella marcatura, poi abbiamo questa forza fisica che è bassissima, 56 in aggressività, 33 nelle scivolate e 27 nei contrasti, per cui un esterno che deve comunque andare e tornare, questo giocatore qua usatelo solo come ala o come attaccante sinistro. Cosa può fare? Può fare gli inserimenti, può fare gli scambi, gli 1-2, può fare i cross, può fare tutto. Ovviamente se lo avete trovato, se ce l'avevate già, d'ora in poi sarà sempre 88 di overall, un giocatore fortissimo. In attacco l'unica cosa può essere il colpo di testa, che ha un 66 con un 65 di elevazione, però essendo che comunque il colpo di testa, come sappiamo tutti, è baggatissimo, fate gol anche in quella maniera là, ogni tanto. Ricapitolando, abbiamo detto, allora, tra le cose positive, quasi tutto praticamente, abbiamo skill, piede debole, controllo palla, agilità, tiro, passaggi. Fra le cose negative invece, assolutamente la forza fisica è la cosa peggiore, e non usatelo come esterno, ma usatelo solo come ala. Questo è quanto, per quanto riguarda Neymar, fatemi sapere in un bel commentino cosa ne pensate, ovviamente vi chiedo di lasciare un bel mi piace al video, come sempre signori, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando ragazzi, stay barba, stay qualità. Ciao belli! Ciao belli!